Riecco i Final Days di Palacanestro da lunedì prossima, domenica 26 giugno a Bari presso il Centro Universitario Sportivo di Lungo Mare Stretta. Una manifestazione a cura del Comitato FIP Puglia che dopo due estati di stop forzato torna a concentrare in una sede, in una sola intensa settimana di fine stagione, tutte le finali dei campionati giovanili non ancora disputate. Under 14 gli incontri in programma con otto titoli regionali da segnare, Under 19, 17, 16, 15, 14, 13, silver maschile, fase oro e Under 14 e Under 13 femminile. Otto finalissime vere e proprie cui si aggiungeranno sei finali delle fasi argento. Sì, è una stagione in cui siamo riusciti a far ripartire tutti i campionati sia senior che giovanili e quindi ci sembrava giusto chiudere con la nostra festa tradizionale dei final days che purtroppo negli ultimi anni non si sono potuti disputare ma l'abbiamo fortemente voluta perché ci dovevamo ritrovare tutti insieme sui campi e far vivere ai ragazzi che hanno disputato i campionati silver questo momento di aggregazione e questa possibilità di andare a giocare per i titoli. I final days si giocheranno al ritmo di due incontri al giorno con palla 2 fissata alle 17 e alle 19, 15 ed un programma che sarà completato nelle prossime ore con il risponso delle ultime finaliste. Si comincia lunedì prossimo con le finali del campionato Under 13 femminile tra Support, Taranto e Buzzano Brindisi e del campionato Under 19 maschile che metterà di fronte Cusbari e Mensestana Mesagne. Grazie a tutti.